Un reparto a misura di bambino, accogliente, caldo, con del personale molto disponibile, preoccupato, attento, che ha a cuore la salute dei suoi bambini. Come obiettivo ho avuto quello di visitare i reparti di pediatria della regione e finora quelli che ho visitato hanno più o meno le stesse criticità che non sono di quella struttura singola, ma proprio del sistema. Quindi il sistema potrà migliorare, sono sicura, una volta che la politica attiverà degli investimenti per la salute dei bambini. Allora tutti saranno pronti per dare il meglio di quanto potenzialmente potrebbero dare. Sono molto grata alla dottoressa Pulighedu che ha voluto venire qui a visitare il nostro reparto. E' importante perché portare a livelli più alti la consapevolezza che esistono criticità ovunque e che comunque si ha la disponibilità di risolverle.